Sabato 5 luglio iniziano i strepitosi saldi in valigeria Ambrosetti, scopri nel nostro store gli sconti del 30% sulle borse della collezione primavera estate 2014 di Alviero Martini prima classe, Borbonese, Liu Jo, Armand Jeans e ancora Gerardini, La Martina, Why Not Collection, Teasley, se prima avevi una scusa per non acquistare la tua borsa preferita, ora non l'hai più, vieni ti aspettiamo, siamo aperti anche domenica 6 luglio.